Io sono stato uno dei primi ad arrivare alla Frutta d'Oro, si chiamava così quella volta, circa del 75-76. Col Trattorino, da Gatteo col Trattorino, mi è sembrato un viaggio troppo lungo, non dovrò mica fare per l'amore del cielo, ma per carità, ma non sarà mica questa la mia vita. E invece troppe volte l'ho fatto e ho avuto anche le mie soddisfazioni, dico la verità. Fu pensato di fare questo lavoro di surgelazione che si sono trovati in conversazione il signor Bruno Piracini con Francesco Antonelli e ha detto sì, la facciamo, la facciamo, però io ci sto se te sei il presidente, ha detto il signor Bruno, e io ci sto se te sei il direttore, ha risposto l'avvocato Antonelli. Quei giorni che sono rimasto io a fare il contadino qui, che abbiamo comprato, che ero un bambino ancora, io ho 15 anni, non erano i tempi che i giovani rimanevano a lavorare la terra. E io ci sono stato perché ho detto di sì e ho tenuto duro sì. Non è stato un mestiere molto bello negli anni scorsi, ci è stato un periodo di crisi maggiore di adesso perché non c'erano i mezzi da adoperare, non c'erano i trattori, non c'erano gli agevolatori di fatica, era fatica proprio. Però quel po' di orgoglio di dire però il mio mestiere porta la cosa, la roba sulla tavola, di quello l'ho sempre avuto un po'. Grazie.